L'esercito ucraino ha lanciato un tentativo di riconquistare l'isola dei Serpenti nel Mar Nero, catturata da Mosca proprio all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. L'isola è diventata un simbolo della resistenza ucraina dopo che all'inizio della guerra è stata diffusa una registrazione radiofonica in cui i soldati ucraini usavano un'imprecazione in risposta alle richieste russe di arrendersi. Nel 119 giorno di guerra, con un post su Facebook, il comando operativo meridionale dell'esercito ucraino ha dichiarato di aver usato colpi mirati con l'uso di varie forze sull'isola dei Serpenti. Non è stato detto però se la missione abbia avuto successo o meno. Il Ministero della Difesa russo da parte sua ha invece risposto di aver respinto quello che ha definito un folle tentativo delle forze di Kiev di riprendere l'isola. Secondo il portavoce della difesa russa, gli attacchi sono stati tutti neutralizzati. Oltre al suo valore simbolico, l'isola dei Serpenti è anche strategicamente importante, essendo situata a largo delle coste dell'Ucraina e della Romania. Altrove la situazione al fronte rimane estremamente difficile, secondo il governatore di Lugansk. La Russia sembra aver radunato quasi tutte le sue forze per assaltare gli insediamenti vicino alla città di Severodonetsk, nell'est, praticamente sotto assedio da settimane. Le truppe di Kiev stanno subendo continui bombardamenti, mentre l'esercito russo intensifica gli sforzi per prendere il controllo dell'intera regione del Donbass. Martedì le truppe russi hanno conquistato i villaggi di Mirna Dolina, Toshkivka e Pidlisne, situati in prima linea.